Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui per presentarvi i bellissimi prodotti che mi ha inviato Merci Bijoux. Tutti i prodotti di Merci Bijoux sono realizzati dalla bravissima Paola. Con i suoi bijoux potete essere sempre eleganti, casual, stravaganti o bambine. Infatti propone bracciali, collane e orecchini di tantissimi modelli diversi, perfetti per soddisfare ogni esigenza e gusto. E adesso vi mostro i fantastici prodotti che Paola mi ha sentimenti inviato. Come potete vedere anche le scatoline sono veramente bellissime. Andiamo ad aprirli insieme. All'interno di questa scatolina troviamo questo bellissimo bracciale. Braccialetto completamente realizzato a mano con cristalli cinesi e berline di vetro. Inoltre una cosa molto bella del suo sito è che si può selezionare anche la lunghezza del bracciale. È davvero un bracciale magnifico. Poi all'interno dell'altra scatolina troviamo questi bellissimi orecchini. Anche questi orecchini sono completamente realizzati a mano, come anche tutti gli altri prodotti di Merci Bijoux, realizzati con perine di vetro di varie forme e dimensioni, cristalli e perle. Come potete notare sono davvero bellissimi e perfetti per ogni occasione. Oltre a questi bellissimi orecchini e al bracciale mostrati in precedenza, Merci Bijoux mi ha anche inviato un omaggio graditissimo che ora vi mostro. Si trova all'interno di questo bellissimo sacchettino rosso. E l'omaggio che vi ha inviato è questo bellissimo paio di orecchini. Come potete vedere hanno una bellissima decorazione e nella loro semplicità sono veramente elegantissimi. Ringrazio ancora Merci Bijoux per i fantastici prodotti che vi ha inviato e vi consiglio davvero di andare a visitare il suo shop online e visionare tutte le sue meraviglie. Come sicuramente avete già potuto notare dei prodotti che vi ho mostrato, sono tutti realizzati a mano e di altissima qualità. Vi lascio qui sotto il suo sito online e tutti i vostri contatti in modo che potete contattarla facilmente. A questo punto vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!